E' impazzito! Presto! Cani! Non credevate che io tornassi da Troia? Volevate rubarmi la moglie e il regno? Non credevano assassinarmi il figlio senza tenere le ile di dèi né svegno di uomini! Per tutti voi è finita perché vi ucciderò come cani! Telemaco! E non sperate che risparmi qualcuno! Nessuno di voi uscirà vivo da questa casa! Ecco il momento della vendetta e il terrore. Come vitelli spaventati essi ora cercheranno con lo sguardo dove poter sfuggire alla morte. Ma il recinto è chiuso e anch'io ho paura. Se tu sei veramente Ulisse tornato a Itaca allora le cose che dici sono giuste. Ma ascoltami, colui che fu causa di tutto è morto ora per tua mano. Antino solamente macchinava queste nozze con un altro scopo. voleva avere il dominio su Itaca dopo aver ucciso tuo figlio Telemaco. Antino è morto e noi ti restituiremo quanto abbiamo consumato. Che cosa vuoi restituire, Eurimaco? Ti daremo venti vacche ciascuno. Bronzo, oro, tutto quello che vorrai Ulisse. La tua vita, Eurimaco, solo la vita! E quello che voglio da te è da tutti noi! Eurimaco, solo la vita, Eurimaco, solo la vita!